Ed eccoci qua ragazzi Di fronte al Tyrant Mamma mia come è grosso Via Oh 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 E' un modo che va piano G però lo devi puntare eh Ma come sei già morto No io che mi aspettavo Un incontro un po' più lungo Vedi lui di Tyrant Vabbè Andiamo a vedere come sta Barry Vieni Dai andiamoci Andiamocene Barry Via da questo posto Non mi laggare proprio adesso Vai per favore Disco vecchio Andiamo 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 Ok Scusatemi ragazzi Andiamo a liberare Chris Eh no No è l'ichimera No eh Dai 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 Moviamoci su Se non sbaglio dobbiamo andare su Mamma mia Mamma mia Andiamo 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 che non c'è tempo No dai pi' fuori non laggare su Eh Chris Non te la prendi troppo con calma Qua sta per esplorire tutto Eccolo finalmente E' let's go Ma se non mi fai andare E' un po' mettiamoci Questo Tante volte ci fossero nemici E mi sembra che bisogna andare tutto in su Porca miseria Non mi ricordo questo pezzo Anche perchè non ci sono mai arrivato i ragazzi Eeeh Proprio ora A rompere le scatole Vabbè questo lo lasciamo in vita Vai 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 Jill Forza 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 Let's go Forza Dai ci siamo quasi Dai dai su Tanto i colpi Non mi basteranno Lo so Usiamo la batteria Ma come non la devi usare? Dai Jill non mi fai perdere tempo Vai ci siamo Ma come 3 minuti all'esplosione Ma vai con calma Jill Tanto Il tempo sta passando E ragazzi Vedremo lo scontro in una prossima puntata Ciao a tutti raga